La prima giornata del campionato d'eccellenza fa registrare quattro vittorie e quattro pareggi. Partono bene il Montalto che supera il Guardavalle a Badolato, il Rocella che supera il Real Sersale, il Cutro e l'Acri che superano il Castrovillari e l'Isola Caporizzuto. Buoni anche il pari del Sersale a Gioia Tauro e del Soverato che impatta con lo Scalea. Questa è la cronaca della gara Guardavalle-Montalto giocata a Badolato, al Giuseppe Larocca, un'ingenuità del difessore Tassone che si fa espellere per un fallo in una zona del campo non pericolosa, con stacara la squadra del tecnico Ritano, dopo essere riuscita a pareggiare la rette di Vitritti realizzata al 35esimo del primo tempo, rette che stiamo vedendo, poi Caputo al quarto minuto della ripressa con questo tocco vincente. In dieci e nel momento migliore si faceva difficile il cammino per i Catanzaresi che subivano l'1-2 di Altomare e Concialdi, molta amarezza nello spogliatoio del Guardavalle. Sì, il primo tempo l'abbiamo giocato malissimo, siamo andati in svantaggio meritatamente, poi ci siamo un attimino sistemati negli spogliatoi, siamo scesi in campo con un altro piglio e dopo otto minuti avevamo pareggiato. Dopo il pareggio avevamo continuato ad attaccare, avevamo chiuso il Montalto nella propria metà campo, stavamo giocando bene, poi all'improvviso questa espulsione di Tassone ci ha condizionato moltissimo perché una squadra come il Montalto concedere un uomo poi non c'è stata partita, bisogna essere con l'uomo in meno, abbiamo sofferto e quindi siamo andati in difficoltà. Adesso arrivano due trasferte, bisogna riflettere attentamente e riorganizzarsi. Certo, è un campionato difficilissimo, questo lo sapevamo, ora ci sono due trasferte, ci rende Acre, trasferte bruttissime, però noi lavoreremo in settimana per cercare di non ripetere gli errori che abbiamo commesso oggi. Sicuramente le ambizioni del Guardia Valle rimangono quelle all'inizio del campionato, un'ottima squadra, tanti acquisti, la squadra è cambiata per il nuovo undicesimo, quindi bisogna un po' riprendere le fila. Questo non è facile, non è facile amalgamare una squadra in 20 giorni, in un mese, questa è una squadra totalmente rinnovata, tranne oggi in campo c'era solo parrotta dell'anno scorso, il primo tempo, quindi ci vuole tempo, abbiamo una defezione che è quella di Daniele Seminare che in questo momento stiamo pagando caro in difesa, dovrebbe essere della partita domenica prossima, vediamo, lavoriamo per migliorarci. Sulla partenza di Cotogno? Cotogno è un elemento che è stato con me a Guardia Valle da quattro anni, è una partenza dolorosa, una scelta difficile che ha fatto la società, si è deciso che bisognava tagliare, però Emanuele penso che non deve dimostrare niente, è un ragazzo che fa la fortuna di qualsiasi squadra d'eccellenza. Sarà il Montalto, la squadra insieme allo Scalea a decidere questo campionato d'eccellenza? Montalto, Scalea, Acri, Rende, Roccello, sono tutte squadre organizzate che hanno un'intellaiatura già da qualche anno, poi queste sono squadre fortissime che non ti concedono nulla, appena siamo rimasti in dieci subito siamo andati in difficoltà. Mister Miceli, il Montalto presenta il suo biglietto da visto sul campo del Badolato incontrando il Guardia Valle, una vittoria molto importante fuori caso? Una vittoria molto importante perché è fatta contro un'ottima squadra, ben organizzata, molto forte e quindi questo dà ancora più merito ai miei ragazzi che sono riuscito a fare una prestazione ingomiabile. Sicuramente avete approfittato delle espulsioni, il Guardavalle in dieci ha favorito i vostri due gol? Sì, ma credo che anche al primo tempo potevamo andare sul 2-0, c'è stata quella bella parata di Parrotta con Gialdi sulla linea di porta, poi c'è stato questo gol che hanno fatto loro all'inizio del secondo tempo su calcio d'angolo, poi dopo siamo stati bravi a riandare in vantaggio e poi l'espulsione ci ha favorito a portare a termine la vittoria. Il Montalto vince fuori casa, lo Scaleo pareggia soverato, questi due risultati come vengono valutati? Il campionato è ancora all'inizio, quindi non è che si possa dire adesso che lo Scaleo ha pareggiato, non abbiamo vinto, il campionato è lungo, non ci dobbiamo curare su questa bella prestazione che abbiamo fatto, speriamo di farne altre di questo tipo per poter arrivare il più lontano possibile.